Pronti per una nuova puntata di Lire Talk? Oggi siamo insieme ad Alessandro Chiavacci di Villa Consulting. Bentrovato Alessandro. Grazie. La prima cosa che appare sul vostro sito, e partiamo da lì perché mi sembra una bella provocazione, è che marketing vuol dire vendere. Oggi parliamo appunto di marketing, una parola diffusa, certamente anche molto abusata, come tante parole, soprattutto nel mondo dei servizi. Perché marketing vuol dire soprattutto vendere? Allora, marketing non vuol dire soprattutto vendere. Marketing è una parola inglese che vuol dire go to market, che è proprio la traduzione vera e propria di marketing vuol dire commercializzare. Io questa cosa l'ho scoperta una volta mettendo questo nome in uno dei translator, tipo Google Translate, molto più professionale, e mi è venuto fuori la parola commercializzare. E ho detto, ma che cosa dice? In realtà poi sono andato a studiarlo sul vocabolario ed è quello. L'errore più clamoroso che normalmente il mercato fa, o la narrazione più diffusa invece di questa parola, comunicare, raccontare una storiellina per convincere il cliente che sei più bello, più simpatico, più carino. E quindi è tutto molto bello. Senti, non mi stai dicendo, visto il lavoro che faccio, che è inutile raccontarsi. No, non è inutile raccontarsi. È inutile raccontare una cosa falsa. Cioè il racconto deve essere una cosa vera. Io quando racconto, noi facciamo questo, cioè noi andiamo ad estrarre all'interno delle aziende il motivo per cui un'azienda vende. E se c'è un motivo, quello è il motivo, non perché mi vesto bene. Io ero un ragazzino e il mio capo all'epoca lavorava in una multinazione americana, io andavo in jeans e in maglione e lui mi diceva, no, ma ti devi vestire in abito. E io dicevo, lui questa persona si chiama Marziano, quindi aveva un nome un po' strano. Io dicevo, Marziano, ma lei mi paga per come sono vestito o per quello che ho in testa? Ecco, questo è il concetto importante. Molto bello quello che dici e mi ricordo un'intervista che feci anni fa, curioso come sono, di indagare come funzionano le storie, chiesi al maestro Pupiavati come si fa a fare un grande film. E Pupiavati mi ha detto, semplice, devi avere qualcosa da dire e devi saperla dire. E io ho detto, wow, questa me la segno e me la porto dentro e in effetti è in linea con quello che stai dicendo perché penso che il marketing lavori molto a questo punto, allora, Alessandro, su l'avere qualcosa da dire, capire esattamente qual è la cosa che tu puoi dire come azienda sul mercato, giusto? Assolutamente, vedi, negli ultimi tre anni, in realtà negli ultimi cinque anni, sono successe una serie di cose incredibili. Ne parlavamo prima, l'Italia è un paese relativamente piccolo rispetto al contesto globale, ma ormai siamo entrati in quel mondo lì, siamo entrati nel fatto che ogni azienda oggi può avere un competitor in Pakistan, in Thailandia, in Cina e spesso e volentieri non lo sai. Poi è arrivata pure la pandemia e la pandemia ci ha cambiato, bene, male, è rilevante, sono fattori che sono esogeni a quello che è il comportamento normale, ma è successa e quello che ha cambiato la pandemia è la modalità con cui le persone approcciano il processo di acquisto. Quello che le aziende stentano, alcune lo stanno capendo, ma quello che le aziende stentano a comprendere è che se cambia il processo di acquisto deve cambiare anche il processo di vendita, perché se l'acquirente, chi compra, compra in una modalità differente da come comprava tre anni fa, cinque anni fa, oggi devi vendere in maniera diversa. Prima si comprava, si passava davanti a un negozio, si veniva attratti da qualcosa e si entrava e si comprava. Oggi esistono studi di Google che raccontano del mess in middle, cioè un fenomeno per cui tu sei in una sorta di ottovolante e continui a non prendere la decisione. Ognuno di noi, quando stai davanti ad Amazon, ti prendo l'esempio classico di cercare un televisore, tu prendi e c'hai un'idea, voglio un televisore da 51 pollici, entri su Amazon, lo cerchi e ne apri 40, ok? E poi inizi a scartabellare, poi a un certo punto ne selezioni i 15 e dopo i 15 inizi a scartabellare, però il settimo mi dice qualcosa in più e allora riapri e inizi a rientrare a 35. A volte questo processo, cerca, chiudi, apri, chiudi la ricerca, diventa quasi infinito e se l'azienda non è capace di prendere l'utente, a un certo punto convincerlo a dire basta, basta questa continua fenomeno di ricerca e chiusura e portarla all'acquisto. Ci stai dicendo che nella confusione del consumatore molta responsabilità spesso sta in chi fa la proposta? Sì, vedi, io penso sempre che quando uno compra qualcosa non compra per le caratteristiche. Le caratteristiche, quando tu prendi un telefono, tu vai in un grande magazzino, tu vai, ci sono tutti i telefonini e ci sono raccontate tutte le caratteristiche. Quando tu hai una telecamera, è chiaro che tu la telecamera per fare un set televisivo la compri anche in base alle caratteristiche, ma sei uno specialista, stai cercando esattamente quel tipo di caratteristica. In realtà la maggior parte delle persone compra per un beneficio, perché se tu decidi di fare un weekend da qualche parte, lo decidi in base al tipo di emozione e esperienza che vuoi fare, non la caratteristica di quanto è largo il materasso dell'albergo. Vuoi andare in quel posto. Allora, per troppo tempo ci siamo concentrati sulle caratteristiche, perché ci siamo dimenticati di raccontare ai clienti qual è il beneficio di farsi scegliere. Stiamo parlando in fondo anche al mondo dell'impresa italiana, che sta cambiando evidentemente, ce lo sta dicendo Alessandro, è cambiata tanto. Siamo passati, Alessandro, da imprese dove l'imprenditore davvero pensava di poter fare tutto e magari faceva anche tutto, ad imprese che via via sono diventate più performanti, hanno iniziato a capire che dovevano realizzare un team, una squadra e pur facendolo però spesso proprio aree di lavoro come quelle che rappresentiamo noi, sono state un po' trascurate, no? Sì, la colpa è molto nostra, del nostro settore. Abbiamo per troppo tempo rincorso il dio del like. Chiamo il like di Facebook, non perché non mi piaccia Facebook, è un social, è un'arena, è uno strumento, ma siamo diventati schiavi di quella cosa lì, schiavi del consenso, schiavi dell'amore del proprio ego. Abbiamo proiettato l'ego dell'amministratore delegato sul brand e quindi poi sul prodotto per il consumatore, ma io non scelgo un prodotto per un ego, scelgo perché mi dà qualcosa. Prima magari si era più concentrati su cose futili, dopo la pandemia tutta la testa nostra è stata risettata, in fin di conti nessuno avrebbe mai detto che ci avrebbero costretti a girare con la mascherina, eppure è diventata una cosa normale. L'altro giorno eravamo in una unione eravamo tutti distanti, perché ci è cambiata la testa. È vero, e poi stiamo imparando pian piano, che capiamo meglio questa macchina che sono i social, che appunto quei like non sempre poi fanno la differenza, è che dipende cosa c'è là dietro, che sono molto illusori, che non costano niente, e che quindi più che la quantità probabilmente dei like vale la qualità? Vedi, prima facevo l'esempio di comprare su Amazon, io sono un lettore sfrenato, e quindi a un certo punto mi sono dovuto piegare alla tecnologia, e ho comprato il Kindle, invece di comprarmi un libro. Perché? Perché il Kindle sta in un telefono, sta in un tablet, invece di viaggiare, il mio ufficio è dentro lo zaino, giro per tutta l'Italia, quindi invece di avere sempre decine di libri, perché se lo finisco voglio il libro successivo, ho il Kindle che compro il libro dopo, o cambio genere di libro. Quando io scelgo un libro, guardo, prima di tutto, quanti commenti positivi, e poi leggo i commenti, perché la quantità di like è rilevante, e io non sto neanche parlando di acquisto di like, ma il problema è che un like, io dico sempre, se la Ferrari vendesse per tutti i like che ha quando posta un'immagine di una Ferrari, la Ferrari non avrebbe bisogno di avere un ufficio vendite, ma tra gradire, mettere un like su una foto di una Ferrari o di una Lamborghini, ma di qualsiasi brand di lusso, e comprare, c'è un abisso. Spesso che compra non mette like. Alessandro, un'altra cosa che mi colpisce pensando al tuo lavoro e al mio dall'altra parte, è che questa volta sì, correttamente, spesso la parola marketing e comunicazione viaggiano abbastanza insieme, no? Nella narrazione. C'è una ragione anche per questo? Sì, perché la cosa più sbagliata che è stata fatta in questi anni è comunicare nulla, è comunicare un'immagine, non comunicare una sostanza. Se io non ho qualcosa da dire e non riesco a convincere il cliente che quello che sto dicendo non è solamente uno spot, io prendo sempre l'esempio, io ho più di 50 anni, ho sempre detto che la pubblicità è un mondo falso, no? Cioè, non cito brand, però la famosa pubblicità, allora, se avete bambini, lo sapete benissimo, nessun bambino una mattina si sveglia alle 7 di mattina e vuole correre a fare la colazione per andare a scuola. Non esiste. È tutto finto. Nessuno prende, lancia un biscotto, il biscotto entra nella tazza e non versa il latte sulla tavola. È verissimo. È lì, in questa pubblicità, entra il biscotto e l'acqua e il latte rimane dentro la tazza, misteriosamente. Esattamente. Quella roba lì, che capisco, serva per l'advertising, pubblicità televisiva, ma è falsa. Oggi ce ne stiamo rendendo conto. Noi guardavamo ieri alcuni social tipo TikTok e ci rendiamo conto che ragazzi giovani, perché TikTok tutti lo considerano un giochino dei ragazzini, c'è delle comunicazioni che sono molto vere. Sono molto d'accordo con quello che dice, tu mi puoi testimoniare che questa intervista, ad esempio, non l'abbiamo preparata. A zero. E non l'abbiamo preparata e la stiamo facendo così, perché questo è un altro elemento che nella società di oggi è importante che venga fuori, e cioè il concetto di essere portatori di verità. Sì, io scopro sempre, noi abbiamo un prodotto, noi lavoriamo molto nella consulenza strategica e tutte le volte che andiamo da un cliente, gli diciamo che noi studieremo la sua azienda e troveremo le sue selling proposition. La domanda che mi fanno tutti, selling proposition è una parolaccia, no? Perché prima si chiamava unique selling proposition, si studiava negli anni 80. Unique, unique non vuol dire che è unica per sempre, ma deve essere unica per te. In quel momento. In quel momento. Io quando parlo di selling proposition, il cliente mi dice, ma lei che avacci, come fa a scoprirlo? E io gli rispondo sempre in una maniera più, che li lascia sempre sconcertati, dico, guardi me lo dirà lei, perché il motivo del perché la scegliono lo sa solo lei. Il problema è che lei se l'è dimenticato di tirarlo fuori, quindi andare a dialogare con l'imprenditore e scoprire come stai facendo te adesso, cioè tu stai facendomi delle domande più o meno provocatorie, stai scavando in quello che è il mio pensiero per tirare fuori un concetto. Noi facciamo questo, andiamo dai clienti, scaviamo per cercare, come dicevi prima, estraiamo valore, cioè scaviamo per cercare quel piccolo tesoro che spesso e volentieri si sono dimenticati di avere. E infatti questo è molto utile anche per gli imprenditori per capire perché hanno necessità di una consulenza come quella che offre Alessandro e offre la sua azienda, la Villa Consulting, di poter accedere alla possibilità di qualcuno che questo mestiere lo sa fare davvero, lo fa con la competenza e con la passione giusta, perché quello che stiamo dicendo proprio adesso Alessandro, avere questa capacità di scavare, sembra semplice, in realtà richiede veramente tanto, vogliamo capire cosa, cosa tu senti nel tuo mestiere e il perché fai questo mestiere. Allora, quando io devo raccontare ai miei figli cosa faccio di un mestiere è complicatissimo, perché loro dicono quindi fai pubblicità? No, ok? Io faccio il minatore, noi facciamo il minatore di competenze e di valore e a me capita ogni tanto di vedere sui vari programmi, non so, faccio dei vari programmi un pochino d'avventura, il mestiere del minatore, ma il minatore che noi pensiamo essere un lavoro abbastanza noioso dove uno scava, non è vero, cioè io oggi fare il minatore vuol dire avere radar, fare studi geologici, perché costa avere una miniera? Ecco, scavare vuol dire sapere dove scavare e a me è un pochino quella base di rabbia che ho quando parlo a volte con i miei clienti che dicono no, ma tanto il marketing lo fa mia nipote, l'agenzia, il cugino, il fratello eccetera eccetera, mi dici ma se tu vai da un dottore, innanzitutto a me, io dico sempre, se tu vai da un dottore paghi 250 euro per uno specialista e dopo lo ringrazi anche, grazie dottore, cioè l'hai pagato eh? Certo, hai pagato, a me grazie non mi ha mai detto nessuno, poche volte, un paio di volte nella mia vita professionale, il dottore tutti i giorni si sente dire grazie, perché? Perché c'è fiducia, perché io so che se io vado da un professionista fa qualcosa che io non so fare, per assurdo quando il mio socio fa qualcosa a livello tecnico web, gli dicono ah fantastico, perché è una cosa astrusa e allora lì è tecnico, in realtà il vero valore è quando noi facciamo analisi. È verissimo quello che stai dicendo, lo rivedo anche in tanti passaggi del mio mestiere, è come se nel mondo che c'è là fuori si riconoscesse meno valore alle idee, quando invece sono proprio le idee, la capacità di formularle, di costruire, di mettere insieme i pezzi che fanno la differenza. Si vedi per anni, io ho visto, io ho lavorato in azienda, quindi le agenzie erano la mia controparte e arrivavano con presentazioni, con bussole, timoni, tutte queste cose radar, Cioè ti indico il percorso, una delle classiche immagini è l'uscita dell'autostradale con scritto, la prossima uscita sei tu, ecco, queste cose. Oppure la frase, non so, l'ho sentita tante volte, guarda tutti quelli che fanno il tuo mestiere stanno comprando questa pagina di giorni, anzi una pagina, quindi se lo fanno loro, lo devi fare anche tu. Guarda, io quando lavoravo in azienda lo chiamavo business as usual, che ha poi un acronimo simpatico e che diventa BAU, ok? L'incapacità di andare fuori dallo schema. Esattamente, esattamente. Fare sempre quello che facevi l'anno prima. Io mi ricordo che quando facevo il budget in azienda, dicevo, ok, questa cifra è il BAU, perché tanto l'amministratore delegato, il direttore vendita, vorranno fare queste cose, poi però facciamo qualcosa di diverso, perché se fai sempre la stessa roba, sarebbe come se si dicesse a una donna, mettiti sempre le stesse scarpe, mettiti sempre la stessa borsa, non esiste. Sì, poi per anni mi sono chiesto e vorrei un tuo parere su questo Alessandro, perché, ecco, sul mercato della vendita degli spazi pubblicitari, ancora oggi succede sui grandi canali televisivi, c'è quel meccanismo bastone e carota dove spesso tu sei costretto a fare la pubblicità perché la sta facendo in quel momento il tuo competitor, di fatto pagate delle cifre enormi, ma state pareggiando i conti, spesso tutti i competitor di quella area pianificano in quel momento e sarebbe come a zerare il risultato. Quindi lo fai perché lo sta facendo il tuo competitor e non perché hai trovato un'altra via. Qualche anno fa, prima della pandemia, noi abbiamo visto un evento dedicato all'e-commerce. Qui mi permetto di citare perché è un brand che io stimo e sono clamorosi. Noi lavoravamo dalla parte tecnica quando facevamo tutta la parte di instant communication dell'evento e ci era intervistato il responsabile marketing di Flying Tiger, che sono i negozi dei Tiger che ci sono in giro. Lui diceva io non spendo un euro in comunicazione di massa, non abbiamo social, non facciamo, non spingiamo particolarmente in pubblicità classica. Io anni fa dicevo se Vodafone e Team avessero un mondo parallelo dove provano cos'è vivere senza la pubblicità, all'epoca si chiamava Omnitel, quindi ho qualche anno, e quando Omnitel e Team uscivano si diceva perché dicono tutti la stessa cosa? Se non ci fu un mondo parallelo dove non esiste l'advertising pubblicità televisivo, probabilmente vedremmo che cosa succede. In realtà non lo sappiamo perché oggi ci sono realtà che non hanno fatto pubblicità e che si sono ritagliate in maniera clamorosa delle fette di mercato. Quindi si può fare, certo si può fare. Flying Tiger è diventato una meta, una sorta di mecca per una fascia di consumatori appassionati. Alessandro si può fare a patto che si sia capaci di fare quali scelte? Di offrire valore al tuo consumatore. Chi ti compra deve sapere che entra lì per un motivo, che può essere un'emozione, può essere un valore di qualsiasi tipo. Non è che ogni azienda è diversa dall'altra. Noi abbiamo la presunzione di dire che andiamo davanti a un'azienda sempre con un foglio bianco. Poi io ce l'ho in testa lo schema. Non è che vado lì improvviso, ma ogni foglio, ogni pagina, ogni azienda ha un foglio bianco. Stiamo raccontando la storia di Villa Consulting, in questo momento in realtà solo la dinamica di lavoro. Poi fra un po' riavvolgo il nastro come mi piace fare e cerco di capire che ci fai in questa realtà, da dove vieni, perché lo trovo sempre molto stimolante. Prima di fare questo però ti chiedo di fare una riflessione sul perché io e te siamo qui oggi. Entrambi abbiamo scelto di stare dentro questo circuito che si chiama In Lire, messo in piedi da Romifuche. Perché, ecco, cosa ti ha convinto a scegliere In Lire e cosa ti è piaciuta di questa dinamica? Che è la ragione per cui oggi ci ritroviamo insieme. Allora, cosa mi ha convinto all'epoca è stata la bravura di Romifuche a raccontarci il progetto. Oggi cosa mi convince a restare dentro è una cosa molto facile. Due clienti su tre, quasi, vengono dal mondo di In Lire. Perché? Perché In Lire non è solamente una moneta compensativa, ma è una community. Una community di imprenditori che hanno bisogno di dialogare. Oggi è molto difficile, perché oggi se chiami un'azienda per telefono, gli mandi una mail, qualsiasi cosa, la gente istintivamente ti dice no, 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 non mi interessa. Se invece ti presenta, noi siamo entrati in quello che oggi forse è il nostro principale cliente, portati da In Lire, con una logica completamente di basso livello. Cioè ci hanno presentato come, vabbè, gli esperti del mondo digitale. In realtà oggi gli stiamo ribaltando tutto. L'approccio, la scusa del digitale è semplicemente il media con cui noi comunicheremo. Ma oggi noi stiamo ribaltando il perché questa realtà deve comunicare. E invece la vostra esperienza di acquisto in In Lire, di che tipo è? Eh, questo è uno dei problemi più grandi dei circuiti di moneta complementare. Io tiro le orecchie sempre a In Lire. Peraltro è una situazione un po' particolare, perché io condivido con loro gli uffici. Quindi loro, non sono, non è facile per loro, perché io esco dal mio ufficio e loro sono lì. Cioè nel box accanto c'è In Lire. Quindi hai sempre qualcosa da dirgli. Quindi non c'è verso che loro scappino, no? Perché non è facile per loro. Ma io gli tiro sempre le orecchie perché loro si dimenticano troppe volte di dire che il loro valore principale è quello di mettere in contatto le aziende. Io so che, mi è capitato, voglio avere un banalissimo, non è vero, un banalissimo incidente alla macchina. La prima cosa è stata andare nell'area broker e dirgli mi è successo questo, mi può aiutare? Non ho fretta, aiutami. La benzina è una cifra, mi aiuti? La macchina ho bisogno, mi aiuti? Poi non è che sempre aiutano, perché è chiaro che loro si girano verso il circuito e cercano di capire come farti aiutare. Ma avere un consulente di acquisto, oggi è una cosa veramente gratis, apparentemente gratis, perché poi in realtà non è neanche gratis, ti portano anche fatturato. È una cosa incredibile. Molto vero, anch'io ho fatto più esperienze anche di circuiti complementari prima di arrivare all'interno di Inlire e mi è piaciuto un po' il rigore di Romi, il fatto che ci crede veramente tanto, però a mia volta dico da sempre, ma Romi lo sta facendo, sta crescendo e un circuito di questo tipo fa la differenza proprio col mediatore, con chi è capace di fare incontrare le persone perché le conosce e capisce che la soluzione al problema esattamente in quel momento è quella. Ma è una cosa che sta crescendo e noi con Inlire TV da un lato e Inlire Talk dall'altro stiamo lavorando in questo modo proprio perché io penso, Alessandro, ed è l'esperienza che stai facendo tu oggi, che raccontarsi in questa modalità anche con il video che oggi è al centro di tutto, lo sappiamo, quanto il video possa essere pervasivo nel bene e nel male, perché permette di valutare una persona. Chi ci sta guardando in questo momento può capire se Villa Consulting, dal modo in cui sta raccontando la storia, la sua storia, Alessandro, può essere la persona giusta oppure no. Perché noi in video trasmettiamo molto di più di quello che immaginiamo, nel bene e nel male, o no? Nel bene e nel male, certo. Fare video è un mestiere molto complicato. Io apprezzo molto il fatto che tu non si sia preparato niente perché la capacità è proprio tirare fuori il valore. Tirare fuori il valore è l'iscozzo di prima, partire da un foglio bianco. Se io avessi avuto già una lista qua di domande sotto sarei stato in ansia, no? Di tutto quello che dovevo dire o non dovevo dire. Io qua non ho nessun'ansia perché non ho una scaletta di cose da dire o da non dire. Tu estrai valore, io lo racconto. Bellissimo. Sai perché anche? Io ho provato ad analizzare questo mestiere, lo dico anche a chi ci segue da casa, perché è giusto, perché il mestiere del giornalista è un mestiere nobile, di chi fa domande è un mestiere nobile. Allora bisogna imparare anche, insegnare forse anche ai nostri figli, a dubitare di scalette già pronte, di domande già programmate, di domande che non vengono fatte. E dall'altra parte invece premiare tutti quei giornalisti, e ce ne sono anche nelle tv generaliste, che sono capaci di fare domande appunto non già scritte, anche per una ragione, Alessandro. Io penso sempre che la seconda domanda è figlia della tua risposta. Quindi se io ho una domanda già scritta, ma come faccio a tirare fuori valore da te? Come faccio a rendere interessante per il mio pubblico quell'intervista? Infatti molte interviste, molti talk non sono interessanti, perché non riescono ad agganciare la domanda del momento. Questa è la ragione per cui stiamo facendo anche il Lire TV in questo modo, e il Lire Talk in questo modo, perché ritengo che dall'altra parte che ci segue vuole capire, dentro questa intervista, se ti chiamerà, se vuole conoscerti, se puoi risolvergli dei problemi oppure no. Facciamo adesso un minimo di... lo chiamo riavvolgere il nastro, no? Cioè tornare indietro e capire che ci fai dentro questo mestiere. Da dove vieni esattamente tu? Cioè i tuoi primi lavori, che cosa facevi da ragazzo per cercare di capire perché poi sei arrivato proprio qui? Eh, allora, io sono toscano. In realtà, poi finito l'università... Abbiamo sentito che sei in Toscana. In realtà si sente qua. Quando sono in Toscana mi dicono che parlo milanese. Io appena finito l'università sono andato via. Via subito. Perché Firenze è una città bellissima, ma per i turisti. E ho iniziato a venire a lavorare a una multinazionale. E mi sono fatto un'esperienza pazzesca in giro per il mondo, facendo cose di tutti i tipi e arrivando a fare veramente cose che di solito un italiano non fa. Tra l'altro una cosa molto interessante che ho scoperto è che all'estero gli italiani sono molto apprezzati. Perché? Perché noi abbiamo un pensiero laterale che la maggior parte delle altri popoli occidentali non hanno. Diciamo, il popoli tedesco, il team classico è all'americano dà i soldi, al tedesco gli dà il processo, quindi il rigore dei tempi. All'inglese gli dà l'organizzazione, però poi quello che deve pensare lo dai a un italiano. Perché se lo dai a un tedesco o a un qualsiasi, non succede niente. L'italiano è abituato a gestire il problem solving, perché noi viviamo in un mondo di problemi, per cui siamo abituati. Perché la prima cosa che ho fatto è dov'è l'ufficio? Si parcheggia? Perché la domanda nostra è questa, no? È sopravvivenza. È sopravvivenza. Sai che sei a Monza, sai che in Monza parcheggiare è un disastro. Quindi la prima domanda è stata si può parcheggiare? Sì, ok, figo, bene, arrivo. Quindi ho fatto questa esperienza. Poi l'esperienza, l'azienda americana è un'esperienza difficile, molto complessa. A un certo punto loro non hanno problemi. Se quello che porti è inferiore a quello che costa, loro lo ti dicono in faccia. Alessandro, è arrivato il tuo momento. Per quattro volte sono stato dalla parte giusta della schivania, alla quinta era la parte sbagliata. E mi hanno mandato via. Quindi poi è stato difficile. 43 anni scoprire che dall'essere figo a dover dimostrare, non avendo più un nome di un brand dietro, è stata durissima. Mi sono piano piano ricostruito il mio personal branding di cui parlavamo prima. Ho avuto la fortuna di trovare il mio attuale socio, molto più giovane di me, perché insomma lui mi dà 17 anni. Però a volte sembriamo quasi coetanei. Grazie a tutti. Senti, come l'hai trovato a proposito di farsi trovare e scegliere e perché l'hai scelto il tuo socio? Allora, te pensa che noi ci siamo iniziati a frequentare in una comunità di un guru social, molto bravo, che diceva tutta una serie. All'epoca eravamo molto più giovani di testa. Ci piaceva tanto. Lui era un grandissimo affabolatore. Era il 2016, 2015, era il periodo in cui questa gente raccontava cose. In realtà studiava. In realtà non faceva altro che studiare cose che c'erano. Magari li leggeva sui libri americani, in inglese, che li traduceva in Italia. Esatto, esatto. Come quello che hanno fatto tanti nei propri libri. E ci raccontava una serie di cose. Noi eravamo lì che proprio ci abbeveravamo alla conoscenza di questa persona. e poi all'inizio ho detto mamma mia com'è antipatico, perché tutto precisino, lui è piemontese, precisino, tutto perfettino. Mi diceva, madonna che paleo. Poi ci siamo iniziati a parlare, poi avevamo entrambi una cosa fondamentale, ci avevamo fame. Bello, bellissima parola. Questa che stai usando ci faremo una puntata, una volta ce la faremo, vai. Avevamo fame, fame non solo di soldi, ma fame di essere riconosciuti. Fame di la voglia di dimostrare il proprio valore. E quindi la consapevolezza, fammi dire, di avere qualcosa da dire. Assolutamente. La consapevolezza di, che poi è maturata nel tempo. Noi diciamo sempre, non ce la tiriamo a suffice, non ce la tiriamo abbastanza. Bisognerebbe imparare a tirarsela di più. Perché? Perché dovunque noi siamo andati e abbiamo fatto un pezzettino di differenza, a volte di più, a volte di meno. Siamo talmente folli, che se non facciamo la differenza, Alessandro, il mio socio, dice sempre, noi vogliamo essere valutati sul fatturato che esprimiamo. Se alla fine di un'attività non abbiamo fatto guadagnare niente, fatturare un euro in più di quello che ha speso, noi andiamo via. E non abbiamo problemi a farsi mandare via. Noi abbiamo chiuso rapporti con aziende pazzesche e ci hanno detto basta. E noi abbiamo detto, va bene. E tutti, ma così? Non siete arrabbiati? No, perché? Senti, le scelte noi spesso le facciamo distinto, no? È l'effetto che ti fa una persona. Ci hai appena raccontato di questo incontro che ha realizzato poi Villa Consulting. Poi però, quella sensazionale devi mettere alla prova. Quando ti sei reso conto che la scelta era giusta? Allora, io sono abbastanza pazzo, Alessandro lo sa che io sono quello che poi ha le idee fuori dallo schema, ma sono anche molto metodico. E lui ci siamo, tra virgolette, siamo sposati tutti e due, siamo fidanzati, siamo stati per un anno a lavorare insieme per capire, perché quando si parla di soldi si parla di cose che non sono banali. Perché io dico sempre il 30% di zero è zero, ma quando arrivano i primi mille euro lì la gente si ammazza. Le mie prime esperienze di imprenditore sono fallite proprio perché i soci che avevo erano sbagliati. Quindi io, scottato dalla precedente esperienza, anche Alessandro scottato dalla nostra precedente esperienza, ci siamo annusati, come diciamo sempre noi, per un annetto. Poi siamo resi conto che insomma la gente ci sceglieva, che non avevamo più un prodotto. La gente chiamava noi perché voleva noi. Al di là di quello che esprimavamo come prodotto base, voleva noi. Voleva sentire cosa ne pensavamo noi. Ieri Alessandro in macchina mi raccontava di una discussione che aveva avuto in pizzeria sulla differenza tra Google Map e Waze. Ok? A un certo punto il nostro cliente era lì che chiacchierava e Alessandro ha detto guarda, Google Map fa questo, questo e questo, Waze fa questo, questo e questo, non c'è meglio o peggio. E gli altri dicono no, no. A un certo punto il cliente ha detto ascoltate, se lo dice lui, vuol dire che è vero. Ora, questa fiducia è forse troppo eccessiva, però mi piace pensare che un mio cliente, un po' come raccontavi te prima, mi piace che un mio cliente dica, ascoltate, nel mondo digitale se loro dicono che è così, noi abbiamo dato delle analisi su quello che potrebbe essere la revenue di un'attività sul display di Google, sull'advertising di Google, e gliel'abbiamo fatto, e abbiamo detto ragazzi, questa è una presunzione, cioè una proiezione di possibile, no, no, ma se lo date voi, per noi è così. Questo vuol dire che davvero sul mercato conta sempre di più la sensazione che il cliente ricava dopo aver fatto un'esperienza con te, somiglia molto all'amore, no? Poi non a casa hai usato finanziamento, matrimonio, in effetti il mercato di oggi ha molto a che fare col concetto, se vuoi, anche di empatia, di riconoscersi, esattamente come l'amore, quello grande raccontato magari nei romanzi. Sì, oggi le aziende sono in un momento complesso, in realtà, io dico sempre, un'azienda che ha 20-30 anni di vita è già passata attraverso 5-6-7 crisi, alcune molto più gravi di questa, perché chi era già sul mercato nel 2007 e ha vissuto quell'esperienza lì, quella crisi, la crisi del 2007 è arrivata dopo 30 anni di crescita in doppia cifra dell'economia globale, quindi quella crisi l'ha creato veramente sconquassi, la gente se l'ha dimenticato come si supera, adesso è diventata una parola di moda, resilienza, io non lo sopporto più quella parola lì, però la capacità di sopportare, di andare avanti è una cosa che è insita nelle aziende, il problema è che oggi ci hanno distaccato e io ho bisogno, come azienda, di trovare qualcuno di cui provare, avere fiducia, perché la fiducia è la cosa più difficile oggi da ottenere. Molto vero, parliamo poi anche un po' di soldi, di cose concrete perché sai che chi ci ascolta dall'altra parte, soprattutto in chi fa i mestieri come i nostri, tende poi a dire sì ma poi quanto costa questa roba qui, ecco, in che modo avete affrontato la politica dei prezzi, in che modo vi rapportate al cliente, se io insomma chiedo una consulenza cosa accade, fammi capire dove mi porti. Allora, innanzitutto noi siamo come direbbe la Fornero molto chiusi, ok? Noi siamo un'azienda, una realtà che ha un target ben preciso in testa. Noi diciamo sempre che oggi fare comunicazione è molto complicato, cioè fare marketing e poi fare comunicazione, cioè mettere a terra fisicamente l'operatività che noi abbiamo studiato è complesso e ci vogliono soldi. La leggenda che il web è gratis è una stupidaggine, vorrei dire una parola un pochino più forte ma mi limito, è proprio una bestialità oggi. Oggi il web è caro, forse è necessario avere più risorse economiche di quando si faceva prima. In realtà prima si buttava tutto in advertising, si andava tutto ai concessionari, poi facevano tutto loro. Oggi non solo devi avere i soldi ma devi anche saperli gestire, quindi è molto più complicato e non solo ti devi mettere in gioco come stai facendo adesso tu con me dentro un set televisivo, cose che in passato... No, prima facevi una creatività all'inizio dell'anno... Oppure c'era il testimonial che parlava con te, poi è arrivato Giovanni Rana... Eh sì, e ha fatto danni in un senso e in un altro. Un po' sì, un po' sì. In un senso e in un altro, perché l'ha fatto, poi però è stato, è difficile, perché poi la gente si abitua. E poi non è che tutti possono essere Giovanni Rana. Esatto. Non tutti possono essere Giovanni Rana, ma poi anche Giovanni Rana l'hanno dovuto togliere. Ma tu pensa quanti testimoni li hanno messi e poi li hanno fatti sparire, perché erano diventati cannibalizzavano il brand. Esattamente, sì. Allora, il discorso è costo. Allora, noi sappiamo che oggi c'è una fascia sotto il quale non bisogna spendere. Noi lo diciamo, se non hai quella cifra, non investire, perché sono soldi buttati via. Se hai qualche, un paio di decine di migliaia di euro l'anno da investire in comunicazione, tieniteli, ma c'è a fare un viaggio alle Maldive. Vai a incintivare la tua forza vendite. Meglio. Prendi i tuoi migliori cinque venditori e dagli in mano proprio i soldi e digli vendi di più. Meglio che andare a spendere. Quindi ci stai dicendo, Alessandro, che comunque c'è una soglia minima di ingresso e mai come adesso. L'imprenditore ci sta dicendo dici quant'è. Voglio capire se ce la posso fare. Sì, sì. Allora. Lo puoi fare per capire veramente che tipologia di cliente può immaginare di approcciarsi a questo tipo di consulenza in maniera seria. Perché il ragionamento che tu stai facendo è questo, è la serietà della proposta. se tu sei un ristoratore che ha un ristorante a Monza, Milano e quindi ha una fascia il prezzo è molto più basso. Se tu vuoi affrontare il mercato nazionale tu devi avere tra i 40 e i 60 mila euro da mettere di spesa di budget marketing quindi è legata anche al tipo di sfida voi accettate sia sfide piccole che grandi o vi siete posizionati su un mercato preciso insomma. Allora noi ci siamo posizionati su un mercato preciso a noi piace molto lavorare nel mondo del B2B perché? Perché poche aziende poche agenzie in Italia fanno B2B perché è difficile perché ora ti dico una cosa che magari fa sorridere tutti non puoi mettere un paio di tette per raccontare che il tuo servizio del B2B è migliore degli altri non puoi mettere un bambino non puoi usare i ganci classici della comunicazione per raccontare che tu sei migliore meriti la scelta del tuo cliente cioè devi portare risultati valore devi spiegare che cos'è il tuo servizio e cosa hai fatto magari poco prima con un'altra azienda devi raccontare cos'è il tuo processo di vendita devi raccontare cos'è l'after sale è una cosa che l'italiano odia raccontare in realtà oggi mai come oggi la gente vuole sentirsi seguita dopo l'acquisto esattamente questa roba non si racconta mai a proposito di raccontare un aneddoto me lo racconti di un caso che avete gestito negli ultimi anni e che per te è stato molto significativo noi abbiamo un'azienda storicamente è stata la nostra cliente l'abbiamo conosciuta in un evento tu sai eventi c'è tanta emozione loro lavorano su un'azienda che commercializza cibi di altissimo luxury food wow ok sexy no super sexy in realtà quindi lavorano con ristoranti il loro cliente tipo il ristorante stellato ma in realtà loro sono fornitori e devono esprimere un valore perché se no lo chef di turno non gli scegli sceglie un altro esattamente perché la materia prima fa la differenza ma se non gli racconti perché quella materia prima è superiore alla tua materia prima anche perché quello diventa poi un pezzo del racconto che lo chef stellato fa ai suoi clienti esatto lo pretende deve sapere cosa può andare a dire il mio salmone la mia trota salmonata viene dalla Tasmania perché in Tasmania c'è una laguna di acqua salmastra unica al mondo dove il tasso di salinità è tale per cui la carne della trota diventa salmonata in maniera naturale quindi non viene salmonata attraverso un processo chimico ma diventa così a livello naturale e quando racconti perché è l'incrocio tra uno dei fiumi con l'acqua più pulita del mondo perché sta in Tasmania con l'oceano Pacifico quindi se racconti questo ti dai allo chef l'opportunità di raccontare poi dopo io l'ho interpretata bla 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 ma se tu questa parte non gliela racconti lo chef non sa niente la cosa più tremolosa è che noi abbiamo preso questo cliente e dopo 20 giorni iniziavamo a lavorare con loro è arrivato il lockdown e i ristoranti hanno chiuso bellissimo abbiamo lavorato per un anno raccontando lo stesso le stesse cose wow e quindi avete approfittato comunque di quel momento magari per ecco dimmi anche questo ci sono state aziende che veramente sono riuscite incredibilmente e anche persone professionisti a fare in modo che una cosa così drammatica come il lockdown e la pandemia diventasse forse una delle poche occasioni che avevano nella vita di ripensarsi ecco quanto hai sentito abbiamo detto prima la parola resilienza la cestiniamo ma ripensarsi forse la possiamo promuovere che dici ripensarsi per me il lockdown è stato quello che in America si definisce un cattineggio cioè uno spigolo inesorabile dopo il quale il mondo è diverso e oggi ragioniamo di incontrarci e pianificare tutto quello che è successo per telefono su Meet noi usavamo già la piattaforma di Google per noi fare i webinar era la normalità noi oggi facciamo formazione non andiamo in aula abbiamo fatto una formazione per un nostro cliente facendo dei podcast e i ragazzi giovani hanno cioè mi hanno raccontato no io andavo alla spesa e ti tenevo come podcast con la fidanzata accanto con te che raccontavi di marketing di vendita digitale e dico che vita immagina contenta la fidanzata però ti fa cambiare sì certo io oggi penso che un'azienda abbia molte più possibilità di vendere rispetto a un'azienda del 1990 insieme ad Alessandro Chiavacci Villa Consulting stiamo parlando soprattutto di marketing marketing vuol dire vendere da lì siamo partiti e poi abbiamo fatto una cavalcata dentro questo discorso per far capire soprattutto che il marketing è una cosa tremendamente seria ancora di più oggi siamo alle battute finali Alessandro non posso chiederti dove stiamo andando dove va il mercato chi nel mercato che già c'è e sta per venire davvero ha più chance di vincere e chi invece è più a rischio guarda partiamo dall'ultimo chi è più a rischio e di conseguenza poi viene il resto allora io anni fa ho fatto un evento insieme a Confindustria giovani e l'obiettivo era parlare di capacità di evoluzione all'epoca noi dovevamo fare una parte di spettacolarizzazione cioè la parte più emotiva dell'evento quindi organizzavamo un'azienda di consulenza tutte le interviste di eccellenze di realtà di eccellenze